Un appuntamento annuale che ogni anno a Pesaro è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono manifestare e dare il loro appoggio alla lotta contro la violenza su donne e bambine. Quest'anno la campagna One Billion Racing, giunta alla sua settima edizione, ha avuto l'obiettivo di manifestare la lotta contro lo stupro, lesioni, moleste sessuali, schiavitù e tratta, fino alle tematiche del femminicidio. Un evento internazionale, una campagna nata in America, appunto per coinvolgere più donne possibili in tutto il mondo e per combattere la violenza sulle donne e sulle bambine. Ogni anno è sempre più grande la partecipazione, quindi noi non molleremo e la porteremo avanti. One Billion Racing, fino a che ci sarà, noi di percorso donna ci saremo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, che hanno aderito e che verranno qui a ballare oggi. Il Flash Mob sulle note della canzone, Break the Chain. Il Flash Mob, promosso dal percorso donna con la collaborazione del Center Stage, ha posto inoltre anche un importante accento sulla violenza sistemica nel settore economico, politico, socio-culturale, ambientale e ideologico. Io penso che sia importante perché in queste cose stare zitti, non muoversi, non dire niente è peggio che a consentire. Se uno è contro lo deve dire e ci deve almeno provare, poi serve o non serve, ci abbiamo provato. Spero nei giovani, mi auguro che loro siano più umani di quelli della nostra generazione, che ne sono rimasti talmente pochi, che non ne faccio tutto di un fascio, però i giovani mi piacciono, hanno una grinza, sono più aperti e quindi io adesso dico evviva i giovani, sia uomini che femmine.